Allora, prima di leggere il testo, volevo pregare. Allora, il passo che voglio condividere con voi si trova in Ezechiele, capitolo 3. Sono diversi versetti, dal 17 al 21. Vi do il tempo di trovarli. Allora, figlio d'uomo, io ho autostabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola dalla mia bocca, li avvertirai da parte mia. Se io dico all'Empio certamente morirai e tu non l'avverti e non parli per avvertire l'Empio di abbandonare la sua via malvagia, perché salvi la sua vita, quel l'Empio morirà nella sua iniquità, ma nel suo sangue domanderò conto a te. Ma se tu avverti l'Empio ed egli non si ritrai dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà nella sua iniquità, ma tu avrai salvato la tua anima. Se poi un giusto si ritrai dalla sua giustizia e commette iniquità, io gli metterò davanti un ostacolo ed egli morirà, poiché tu non lo hai avvertito. Egli morirà nel suo peccato e le cose giuste da lui fatte non saranno più ricordate. Ma del suo sangue domanderò conto a te, se però tu avverti il giusto, perché non pecca e non pecca, egli certamente vivrà, perché è stato avvertito, e tu avrai salvato la tua anima. Accomodatevi. In una preghiera abbiamo sentito che si è parlato di essere dei soldati, e diciamo che chi ha fatto il militare o se ci sono dei militari qua sanno che fare la sentinella è un compito di grossa responsabilità, perché comunque la sentinella deve avvertire di un imminente pericolo che sta arrivando a avvertire i militari affinché si preparano per difendersi, mettendo in salva la propria vita. Il profeta Ezechiele, figlio di Buzzi, apparteneva ad una famiglia sacerdotale e lui, mentre si trovava con gli altri condotto verso la cattività in Babilonia sul fiume Kebar, riceve una visione e nella visione riceve la presenza, la gloria dell'Eterno. E lui la descrive come l'aspetto di un arcobaleno tra le nuvole in un giorno di pioggia. Quest'aspetto così splendente lo circondava. Oggi è una giornata uggiosa, certamente alle volte il tempo influenza un po' l'umore delle persone. Vedere una giornata così ti incubisce un po'. Però, fratelli, che gioia nel momento in cui vediamo apparire quest'arco luminoso in cielo dai vari colori. È qualcosa che ti rianima, perché vedi in minima parte, ma proprio piccolissima, la gloria dell'Eterno. Immaginate Ezechiele che ha visto uno splendore così sfavillante, tanto è vero che è caduto poi con la faccia a terra. Cadremo anche noi, che non riusciremo a resistere a una così tale gloria, splendore e potenze da parte del Signore. Dio, rivelandosi ad Ezechiele, gli dà un mandato. Lo costituisce sentinella, come abbiamo sentito, della casa di Israele. Perché c'era bisogno di una sentinella? C'era bisogno di una sentinella perché il popolo di Israele era sviato, era ribelle. Abominazioni si facevano tra di loro, menzogne, idolatria, fornicazioni, adulteri. Il pericolo era costante, incompeva su di loro. Infatti nel capitolo 2 di Ezechiele, al versetto 4, Dio dice Hanno la faccia dura e il cuore ostinato. La ribellione e l'ostinatezza sono dei peccati. E questi sono confermati da 1 Samuel, capitolo 15, versetto 23, che dice Poiché la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dèi. Noi siamo soliti vedere i grossi peccati, l'omicida, la persona che commette magie, che si dà alla divinazione, che è adultera. E non vediamo i peccati minori. Li consideriamo insignificanti, ma essi sono i più pericolosi. Sono poi, in napoletano, mi sembra, non so in italiano come si chiamano, quegli insettini pappici che stanno nella pasta. Pappici, in italiano non lo so, farfalline forse, non so come si chiama. Basta che ci sia uno di quello in un pacco, se non ve ne accorgete, se non state attenti, contaminano tutta la pasta. Quindi dobbiamo stare attenti affinché anche questi piccoli peccati non ci contaminano. È pericolosa la cosa. Ezechiele svolge il suo mandato in un periodo più brutto, più buio. della storia di Giuda, nei 70 anni della cattività di Babilonia. Però Dio non lo lascia da solo, lo equipaggia, come vuole equipaggiare anche ognuno di noi. Gli dice non aver paura, non aver paura, vai, di quello che il popolo dirà. Infatti, al capitolo 2, sempre, Dio gli mostra un rotolo, scritto di dentro e di fuori. E in questo rotolo stavano scritti lamenti, gemiti e guai. E Dio dice, mangialo, e poi gli dice, va e parla al popolo di Israele. Ezechiele lo mangiò, mangiò un rotolo. Egli fu dolce in bocca, dice, come miele. Fratelli, questo scritto lo troviamo anche nell'Apocalisse a capitolo 5, versetto 1. Cambia però il protagonista, è Giovanni. Giovanni ha una visione. Un libro scritto dentro e fuori. Ma non c'era nessuno, dice la scrittura, né in cielo, né in terra e né sottoterra, degno di aprire quel libro. L'unico, era il leone della tribù di Giuda, Gesù. E questo mi fa considerare una cosa. Noi abbiamo visto che Ezechiele è stato mandato in un periodo il più buio della storia di Giuda. 70 anni di cattività. E proprio da questo periodo esce colui che ci riscatta. Cioè colui che è stato immolato e che con il suo sangue ci ha comprati a Dio. Cioè noi stavamo nel mondo delle tenebre. Avevamo come padrone Satana. Non eravamo considerati. Eravamo schiavi. Non avevamo titoli. Eppure lui, non so se vi rendete conto, ci ha comprati a Dio. Siamo entrati in un mondo di luce. Con un padrone che è amore. Non solo ha fatto questo. Ma la scrittura dice a tutte le tribù, a tutti i popoli, a tutte le nazioni, a tutte le lingue. Tutti. Ma la cosa bella, fratelli, è che io, quando stavo soggetto al vecchio padrone, non ero considerato. Tu non eri considerato. Io non avevo titoli e tu non li avevi. Io ero un poco di buono. Ma pure tu, pure voi, eravate di poco di buoni. Vedete Gesù che cosa ha fatto. Ci ha fatti diventare re e sacerdoti. Ci ha dato un titolo. Ci ha dato un'importanza. Una regalità. Ma l'avete mai considerato questo? L'importanza di appartenere a lui. E' sacrificio che lui ha fatto. Ma ritorniamo a Giovanni. Giovanni quel rotolo, come Zichiele, lo mangiò. E anche Giovanni assaporò che in bocca era dolce come il miele. Però dice, nel momento in cui l'ho divorato, le mie viscere divennero amare. Apocalisse 10, 10. Cari fratelli, il libro della parola di Dio, quando lo si legge, quando lo si divora, è un nettare. Però ti addolora. Quando lo digerisci perché la verità che sta in essa cozza contro i guai, le lamentele, lo stinadezze, la ribellione di ognuno di noi. E stai male, stai male perché vorresti che la parola che viene proferita per bocca del servo, avesse un riscontro nella praticità. Fosse non solo ascoltata, ma anche messa in pratica. Quello che non facevano gli israeliti e quello che alle volte non facciamo noi. E Zichiele fu posta come sentinella presso la casa di Israele. Per avvertire il popolo di un imminente pericolo, l'assedio da parte del popolo di Babilonia. In Israele c'erano diempi e i giusti, abbiamo letto. Diempi sono quelli che vivono nel peccato, però Dio dice che comunque bisogna avvertirli. Abbiamo questa responsabilità, perché se non l'avvertiamo e loro rimangono nell'iniquità, muoiono e noi abbiamo una responsabilità, dobbiamo dar conto a Dio. Ma se noi l'avvertiamo e loro persistono a stare nella via malvagia e muoiono, noi abbiamo salvato la nostra anima. Così per i giusti. Se un fratello, una sorella, cade nella iniquità e il Signore gli pone davanti un ostacolo per peccare e lui, e io non lo avverto, e lui muore, io devo dar conto a Dio di questo. Ma se io al fratello o alla sorella lo avverto e lui non pecca, vivrà il fratello o la sorella, vivrà rispetto all'empio, l'empio muore comunque, vivrà. Però io avrò salva la mia anima. Quindi, questo ci fa comprendere una cosa, che il compito del servo è di grande responsabilità. Se non lo facciamo, se non avvertiamo e si perdono, dobbiamo dar conto a Dio. Ecco perché da parte vostra i servi meritano l'onore, il rispetto, le vostre preghiere. Sì, è vero, un servo sbaglia pure, chi è che non sbaglia? Solo Gesù non sbaglia. Però ricordate cosa è successo a Davide. Davide ebbe l'opportunità di uccidere il re Saul, invogliato anche dai suoi soldati, che lo invogliavano ad ucciderlo. Saul ne aveva combinate di cotte e di crude. Voleva ammazzare Davide, era preso da uno spirito di gelosia, lo spirito di Dio si era distaccato da lui, eppure aveva tutte le buone motivazioni Davide di uccidere Saul. Ma nel momento in cui si avvicinò e toccò il lembo del suo mantello, il suo cuore gli battì e disse no, io non alzerò la mia mano sull'unto dell'Eterno, il mio Signore, nonostante che avesse sbagliato. Perché poi in seguito dirà, la vendetta non aspetta a me, ma aspetta al Signore. In passato li ho letto questi capitoli, sono ben 47, però li ho trovati un po' duri, un po' noiosi. Però ho letto con una predisposizione diversa da parte di Dio, sono meravigliosi, fratelli. E' vero, si legge di conseguenze disastrose per il popolo, di punizioni divine a causa delle continue abominazioni che commettevano. E leggendo il capitolo 8, una cosa mi ha colpito. Noi alle volte diciamo, spesso anche nelle preghiere, noi siamo nudi davanti a Dio. E questo è vero. Però guardate qua il Signore che cosa dice. Durante la visione, Ezechiele fu condotto all'ingresso del cortile di Gerusalemme. Gerusalemme. E Dio gli disse, ecco un buco nella parete, fa un foro nella parete, io lo feci, ed ecco un'apertura. E vidi 70 fra gli anziani della casa di Israele che adoravano idoli intagliati, affissi sulle pareti. E Dio disse, hai visto? Si sta rivolgendo a Dezechiele, hai visto? Ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nell'oscurità, ciascuno nella camera delle sue immagini? Infatti dicono, l'Eterno non ci vede. Illuso. Questo non l'ha detto Dio, lo dico io. Illusi. Dio è stato il primo a creare un circuito chiuso di telecamere. Riesce a vedere, ha un display, secondo me è enorme, vede tutto. Ti puoi nascondere anche nella cameretta, nella cameretta potresti andare per pregare. Invece magari vedi cose obrobbie o scene in televisione, oppure chatti sul telefonino per criticare Tizio, Cai e Sempronio. Dio vede, vede la profondità del nostro cuore. Ma ritorniamo all'esposizione. Anche se in questi capitoli si legge di un Dio punitivo, egli comunque è un Dio da un immenso amore, sia per me che per te che per il suo popolo. E' vero, utilizza la verga, ma come sta scritto in Proverbio 27, capitolo 6, cioè 27 capitoli, versetto 6, dice «Fedeli sono le ferite di chi ti ama, ma frequenti sono i baci di chi ti odia e Dio ci ama, ci ama di un amore immenso. E non si incompiace della morte di nessuno, perché lui desidera che ognuno giunga a salvezza». Voglio concludere lasciandovi, soprattutto citandovi qualcosa di meraviglioso, che sta scritto sempre in Ezechiele al capitolo 33, dal versetto 30. Fate attenzione, non lo prendete a queste parole. Quanto a te, figlio d'uomo, si rivolge sempre ad Ezechiele, i figli del tuo popolo parlano di te presso le mura e sulle porte delle case. Si parlano l'un l'altro dicendo, ognuno ha proprio fratello, venite a sentire qual è la parola che viene dall'Eterra. Così vengono da te come fa la gente, si siedono davanti a te, è come il mio popolo, e ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Con la loro bocca, infatti, mostrano tanto amore, ma il loro cuore va dietro al loro giusto guadagno. Ascoltate questi versetti che sono una poesia, qualcosa di meraviglioso. Quando un servo proferisce da parte del Signore delle parole, guardate come il Signore le descrive. Ecco, tu sei per loro come una canzone d'amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene uno strumento. Essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco sta per avvenire, riconosceranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Evidentemente Zichiele non era ben visto da popolo, perché attraverso Dio proferiva dei rimproveri, metteva allerta il popolo dei peccati, e quindi non era ben visto. Però loro, vedete, sparlavano, però dicono andavano, andavano alla casa dell'Eterno ad ascoltare la parola. Ci andavano. La settimana scorsa il pastore disse che c'era una gran parte di percentuale che, magari quando ascolta la parola, è presa da uno stato emotivo. La percentuale invece di quelli che la parola prevarica, l'emotività, è molto bassa, se ricordo bene il 50%. Ed è così, magari noi veniamo il giovedì, la domenica, veniamo per ascoltare la parola. L'ascoltiamo anche, però non la mettiamo in pratica. E guardate come Dio definisce la sua parola, una canzone d'amore. Dalla Genesi all'Apocalisse, la parola è una canzone d'amore, che Dio vuole dedicare a te, a me, ad ognuno di noi. E quello che Dio proferisce, fratelli, avverrà. Perché in Isaia, capitolo 55, versetto 11, sta scritto, Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca. Essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente, ciò per cui l'ho mandata. Fratelli cari, che Dio ci aiuti, che Dio ci benedica, ma soprattutto che Dio possa infondere in noi la sua canzone d'amore. Che Dio ci benedica.